È stata una buona partita, noi ce l'abbiamo messa tutta, anche se dobbiamo ancora migliorare in diverse cose. Domenico ci aspetterà una nuova partita, si rincomincia da capo e vi aspetto numerosi al Palabanini per sostenerci perché abbiamo bisogno di tutto il nuovo pubblico, di tutto il calore del pubblico per affrontare questa sfida importante.